Ottenere informazioni sull'apertura dei bandi, sul tipo di contratti applicati, sulle misure di sicurezza e sulla formazione. Firmato questa mattina a Genova, nella sede di Anci Liguria Palazzo Ducale, il protocollo per la partecipazione e il confronto nell'ambito del PNRR e PNC, tra i segretari regionali del sindacato confederale CGL Cislewil e il presidente di Anci Liguria Marco Bucci, sindaco di Genova. Arriva una firma importante di un protocollo nazionale, già attivo, che avrà ricadute anche sulla Liguria, ha spiegato Bucci. Siamo contenti che Anci Liguria abbia coinvolto tutta la componente sindacale per fare questo lavoro. Questa è un'occasione per tutti i comuni, conclude, per poter essere certi che le cose vadano bene a partire dai controlli per dare un servizio ai nostri cittadini e migliorare. Alla firma erano presenti tutti e tre i segretari regionali dei maggiori sindacati, Maurizio Calà della CGL, Luca Maestri Pieri della Cisle e Mario Ghini della UIL, soddisfatti per l'accordo raggiunto. Con questo strumento sarà possibile ottenere informazioni sull'apertura dei bandi, sul tipo di contratti applicati, sulle misure di sicurezza e sulla formazione, e, aggiungono, si tratta di un'opportunità unica nel suo genere.